E' un studente? Io? No, no, smesso, smesso. E di che cosa si occupa? Di niente al momento. Ma che ci facevi a bilanciare con quel vecchio? La porta a spasso, mi danno 30 euro all'ora. Ma almeno pagherai buffi. Da raggi? E come da raggi? Spacci? Non riesci più a distinguere cosa va bene da cosa va male, perché è la timer, fa così. Ma che si attacca? Mai sentito. Mai sentito. E poi la morte è importante. Metto a sacco le brevi, ho scritto a sacco le regole. Ho come un Dejambi. Ma che se sente male? Dio. No. Guarda, è sempre mancata molto la compagnia maschile. Eccolo. Andiamo al mercato! Tutto a posto? Lei sono obbligato. No, no, cavolo. Grazie. Ah, prego, beh. Lei non ha mai scritto così, eh? No, io non ho. Si scriva quando non si sa dove mettere l'amore. Se ti portano al Gabby, io te ce lascio. Peggio di quanto adesso. Io ci ho pensato. Voglio tornare lassù. Ma lassù dove? Ma dobbiamo fare in freddo. Non c'è più tempo. Ma non capisco perché non me ne hai parlato. Tutto quello che vuoi, e fu quello il saluto. Tutto quello che voglio, alla fine, l'ho avuto. Giorgio, scusa, è vero che Alessandro ti sta simpatico? Chi è Alessandro? No, ma fai, lo vedi. Grazie.